Io ho scelto che pensare, tornare bambino creativo, vivo capolavoro innocente, sarà la mia priorità, è ciò che mi serve per sentirmi libero, per essere ciò che voglio. Devo prendermi tutto il tempo per nuovamente sorprendermi, avere una concreta, tangibile, infinita mia visione del mondo, per sbugiardare l'invisibile, ordine costituito, indesiderato. Io non subisco, non obbedisco, dico e faccio gesti di libertà, ogni giorno con la mia voce, accompagno per aria la poesia, ci facciamo lunghe passeggiate, incontriamo di tutto, disagio, dolore, tutto abbracciamo, baciamo sulla bocca l'amore.